Stiamo lavorando per stabilizzare il salone nautico, lo abbiamo aiutato già lo scorso anno, lo aiuteremo quest'anno con i nostri contributi. La nostra presenza è tutta la regia pubblica che si può fare insieme all'autorità portuale, per garantire spazi adeguati e per consolidarlo negli anni a venire. Stiamo lavorando in modo tale che le darsene legate alla fiera possano diventare un polo duraturo, occupate non solo per il salone nautico, ma anche, mi auguro, per tutta l'attività accessoria e correlata al mondo dello shipping. Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, a margine della Convention Cina Settec 2017, dal titolo Fabbrica Nautica. Un patto per la crescita a Santa Margherita Ligure. Diventare capitale mondiale del turismo, sottolinea Totti, e della nautica da di porto in termini di produzione e ospitalità è uno degli obiettivi di Regione Liguria. Lo abbiamo fatto diminuendo le imposte su Marina Resort, un provvedimento di natura fiscale legato al Growat, insieme all'abolizione dell'Irapec per chi investe e ha misure per le imprese. Con Ucina c'è un ottimo rapporto, stiamo lavorando così come lavoriamo per gli imprenditori che operano in Liguria in questo campo.